Ora, lei è Ninni e mi è stato chiesto come fare la pancia ad un gatto senza perdere gli arti superiori. Prendiamo il gatto, lo giriamo, lo facciamo molto tranquillamente, una mano sotto la sua ascella e con l'altra mi aiuto a tenere quella dietro ferma. E tirando anche l'ascella con questa mano, tiriamo anche un po' la pelle, almeno al gatto non facciamo male. Voila, guardate un po' che bravo. Stessa cosa per la parte dietro. Voila, teniamo bene questa giampetta e andiamo. Guardate un po' che bravo. Voila. Stessa cosa poi dall'altro lato. Prendiamo il gatto, lo giriamo delicatamente, bravo. Prendiamo il nostro pettine e andiamo a lavorare. Voila. Ed ecco qua il gatto, tranquillo, che non gli facciamo male, si fa snodare la pancia. Intanto c'è Margherita che aspetta la sua mamma. Voila. Finiamo anche qua sotto. E siamo pronti. Per andarcene a casa. Anche l'ice è la sua prima volta in te lettatura. Bellissima, Nini. Grazie. Ciao. Grazie a tutti